Dopo cinque vittorie consecutive, l'Altamura ha commesso un passo falso scivolando in casa contro la Paganese. Lo Iodice ha risposto a Iannone, raccogliendo però un solo punto per i Biancorossi, che nonostante tutto proteggono il primo posto della classifica. Non è riuscito infatti ad approfittare di questo stop il Casarano, che vincendo avrebbe accorciato ulteriormente sulla capolista, ma i gol di Silvestri ed un super provitolo hanno permesso al Barletta di pareggiare il momentaneo vantaggio di Gambino. Resta pertanto invariata la distanza fra i primi due posti, ma il Nardò ha agganciato a quota 27 i Cugini Rossazzurri, vincendo 2-1 in Salento contro la Gelbison. A Granata basta la doppietta di Guadalupe per strappare l'ottavo successo in campionato e il gol di Sal serve solo per le statistiche finali. Il Matera dimostra di fare sul serio superando anche la Fidelissa d'Andrea. Il 2-1 dei Lucani porta la firma di Cipolletta Infantino nel mezzo l'inutile rete di russo. Il Matera scavalca dunque i federiciani e agganciano in zona playoff il Martina, reduce da un pareggio a reti bianche contro il Santa Maria Cilento. Terza sconfitta consecutiva per il Fasano, attualmente a metà strada tra zona playoff e zona playout. La trasferta di Angri vede i campani imporsi per 3-2. Palmieri e De Franco indirizzano la contesa, Battista accorce le distanze e Longo le riallunga. Nell'ultimo disperato assalto, Dorato porta a casa un minimo scarto che vale però 0 punti. I biancazzurri della selva sono fermi a quota 20 da tre turni, gli stessi di Barletta e Rotonda, con i biancoverdi che hanno pareggiato in casa 0-0 con il Manfredonia. In questo turno è stata definita anche la zona playout, con Gravina e Bitonto tornati al successo nei due scontri diretti. I gialloblu hanno superato il Gallipoli ad esso ultimo in classifica grazie al gol di Vidal. Ai neroverdi è invece bastato Loris Palazzo per espugnare Palma Campania e trovare il primo successo esterno del proprio campionato.